in collaborazione con antica cantina l'osteria delle donne piano b snack e coffee orvietosi.it il quotidiano di orvieto e dell'orvietano antica cantina l'osteria delle donne si trova in pieno centro storico a due passi dal duomo è un'osteria dove troverete un ambiente intimo e accogliente gestita da sole donne con la filosofia del come fatto in casa l'antica cantina propone una cucina che utilizza materie prime freschissime e dispone di un'accurata selezione di piatti senza glutine vegetariani e vegani come ogni anno si è svolta nel campo sportivo dell'oratorio san filippo neri di orvieto la finale del torneo di calcetto dei quartieri che ha visto la partecipazione di oltre 100 giovani di varietà e di alcuni genitori con le nostre telecamere abbiamo ripreso le fasi salienti della semifinale e della finale vediamo si sta giocando la finale terzo quarto posto della seconda edizione del torneo di quartiere 2014 l'olvo scena l'olvo conduce 10 a 0 primo tempo era finito 6 a 0 il non è già morta lo scappini scappini ma sul destro doppio passo a me allora marzia tonio marzia tonio marzia tonio ma non ci fanno il suo gioco capire? tutto stesso ti peri ti peri ti peri non intanto adesso profeta la ragazza ti ammortare quindi a me non ci fanno il pallone profeta profeta salita su ti ammortare ti ammortare ti ammortare ti ammortare fuori grillo ammendola ammendola guarda la posta ammendola 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 è la vinta marzia tonio eccolo è la vinta marzia tonio finito giornata marzia tonio ed è 11 a 1 ammendola ammendola c'è il campionato solo fa che ci fanno una fantastica ammendola no ma tutto il corner di peri di peri guarda la porta di ripling scappini largo scappini di peri di peri di peri la cala maduto marcia taglio marcia lungo profeta scappini scappini sul macino scappini sul macino e la banda è in corno laterale ammendola ammendola manca il calo verso di a casa di peri di peri di peri di peri di peri di peri gioco adesso si è a casa di a casa di peri ammendola 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 lancia il calo verso di gioco troppo lungo fidi scappini di peri peri ed è 14 a 1 13 a 1 di aca scatto british di aca all'arca verso pagano e ed è 13 a 2 timato ma un'arca in cammino di peri di peri verso destro e rete ed è 15 a 2 un'arca in peri bandini bandini ammendola di genova di genova sbagliata di torna 3 contro uno scappini di peri di peri di peri con la città di cipollosco ammendola ammendola destro bandini di peri biancalana 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 e due contro uno segna provera finisce qui con il 17 a 2 olmo stella adesso ora luogo la premiazione dopo la partita olmo stella vinta all'olmo quarto in classifica lo stella medaglie per gabrile biancalana raffaele raezza antonio ammendola maurizio paganino medaglie per enrico grillo ferdinando di genua il capitano medaglie per mattel di beri medaglie per leonardo giammorcaro leonardo profeta corrado scaffini samuel mandini quarto posto assegnato allo stella sulle mani di ferdinando di genua terzo posto all'olmo sulle mani di eraldo profeta bene il commento stavolta brevissimo perché lo risparmio diciamo il top del top per la super finalissima tra corsica e serancia due squadre meravigliose devo dire che quest'anno i ragazzi hanno preso molto sul serio questa seconda edizione del torneo dei quartieri di calcio a 5 anche perché tanti di loro giocano anche a calcio e quindi vengono con uno spirito agonistico io credo e cerco di far capire nel mio piccolo insieme a soldonata e ai ragazzi che si è dei super agonisti e dei super sportivi non solo nel campetto e anche fuori spero che queste medaglie sul petto al cuore e questo trofeo che hanno preso lo vincano con l'umiltà e la sincerità di chi si mette a servizio dell'altro finale del torneo 2014 la seconda edizione palla al Corsica da centrocampo subito Giona Fiorin gli arbitri Matteo Papini Federico Mandini pronto a fischiare il calcio d'inizio si comincia subito Fiorin che appoggia della Volpe Brunelli vediamo il Corsica grande lavoro nei gironi idem il Serancia che si è dimostrata una squadra bravissima a giocare a calcetto rispetto alle altre subito calcio di punizione primo fallo del Serancia ai danni del Corsica Brunelli è la battuta nella prima partita Corsica Serancia finita 7 a 3 proprio una sua magia ha rotto l'equilibrio della partita sulla barriera il calcio di punizione quindi alla battuta della rimessa laterale appoggia ancora lui un Baltini il Serancia tecnicamente è una buona squadra il problema di questi 5 giocatori che sono un po' lenti davanti non c'è una punta che riesce a dare velocità ed equilibrio al gioco al contrario di un Corsica molto elegante veloce soprattutto grazie a Grafeo e a Fiorin adesso della Volpe appoggia Fiorin ancora Fiorin attenzione Leonardo Perisse l'1-0 dei bianco e rossi del Serancia che vanno in vantaggio che vanno in vantaggio attenzione adesso ancora Perisse Perisse e un Baltini Marco Baltini un miracolo adesso Fiorin Fiorin ancora palla per della Volpe lenta recupera il Serancia Grafeo prova ad andarsene Grafeo contro Ricci allora è Gio a prendere la palla ancora Grafeo Grafeo Fiorin Brunelli la palla è buona la palla è buona attenzione ancora Fiorin Fiorin allora Cagliani un numero del divino un numero si scatena la folla qui attenzione a Cagliani riesce a controllare ancora Cagliani Cagliani sul fondo giù niente attenzione vedardo Perisse finisca ancora della Volpe Borrello grande parata quindi Borrello e il Corsi ha sicuramente sbagliato l'approccio alla partita ma adesso vediamo se riuscirà a pareggiare allora attenzione non c'è arriva di un pelo quindi Chita Grafeo sul tocco di la Volpe adesso deve tornare ma Brunelli grande recupero qui Serapinelli la manda in calcio d'angolo finisce il primo tempo 2 a 1 per il Serancia sotto i colpi di Leonardo Perisse il pareggio dei parziali trovato di Giona Fiorin qui Bantini riputa la palla appoggia Brunelli qui Grafeo attenzione e busta viene atterrato calcio di punizione Brunelli a tutti a tutti un soffio qui sbaglio per l'invio Fiorin Giona Fiorin il Corsica pareggia i conti grazie alla doppietta di Jonathan per in adesso lottano come leoni i giallorossi attenzione adesso della morte della morte a tutti per tutti con Borrello mette il piede di mani la palla va fuori il flaco ma che cosa salva Serrafinelli si mette le mani nei capelli il flaco Grafeo secondo me senza Serrafinelli mancherà l'uomo dietro c'è Ancagliani che non sta difendendo molto bene abbiamo visto in questa circostanza quando era completamente solo Fiorin rimessa dal fondo adesso il flaco Grafeo Giona si fa rubare palla allora il talentino Perisse Leonardo Perisse entra e fa la sua tripletta in silaggiavola 3 a 2 Perisse di petto si gira ma chi è questo ma chi è non ci credo Leonardo Perisse stop di petto in girata 4 a 2 della volta della volta il gol dal 4 a 3 finisce qui vizio Anca Anca il secondo trofeo dei quartieri grazie alle tardi Perisse bellissima partita bravi gli uomini di Perisse allora col capitano della squadra vincitrice com'è andata questa partita avete fatto molto gioco durante i due tempi niente niente che arrivava che arrivava nell'ultima posizione invece alla fine siamo stati alla sorpresa dell'anno e abbiamo vinto Grafeo allora il risultato non vi ha non vi ha convinto no con vinto è così se vince si perde a calcio poi abbiamo perso male perché a un certo punto avevamo la partita a mano ci sono venute 3-4 occasioni non le abbiamo sfruttate gol mangiato col subito va bene adesso ci si prepara per l'anno prossimo speriamo ho il piacere e l'onore a nome di tutto lo staff dell'oratorio San Filippo Neri di premiare primo di tutti la squadra che è arrivata a seconda gli faccio un grande ringraziamento anche per la sportività con cui hanno giocato tutto il torneo il Corsica un grande ringraziamento l'anno scorso avevamo inventato e deciso due ulteriori trofei quello per il miglior giocatore e il miglior capo cannoniere siccome quest'anno è stato un torneo dalle grandi risorse ma anche dalle grandi polemiche io ho eliminato il capo cannoniere e per evitare ulteriori polemiche tra le varie componenti fondamentali dell'oratorio e del torneo cioè gli arbitri le squadre i capitani e le tribune la decisione dei due migliori giocatori sia da un punto di vista agonistico che soprattutto morale l'ho presa io due persone che hanno avuto un grande spirito di squadra una grande capacità d'ascolto di silenzio di mancata polemica d'accoglienza grandi sportivi ma anche persone molto umile un lavoro anzi un ruolo che tante volte è sottovalutato sta al centro delle attenzioni però poche volte viene ripagato allora chiamerei i due portieri Rico Grillo e Samuele Mandini a presto